Buongiorno vlogmas, oggi viene la Nancy, sono a casa di mamma perché come vi ho detto nell'ultimo vlog se l'avete visto penso di sì, avevo avvertito che dormivamo qua e Dario a casa di mamma e adesso viene la Nancy, siamo felicissimi, oggi vloggeriamo tutto, faremo tante cose bellissime nel frattempo volevo farvi vedere il mio super pigiamino tutta, oggi scenderò così, cioè con che coraggio questo è quello che vi ho mostrato nel video regali di Natale che ho fatto con Dario che ho caricato pochi giorni fa qua su Youtube, è adorabile, cioè praticamente è tutto un completo guardate c'è anche il pantalone, no vabbè, adoro, non è bellissimo questo pantalone? C'è pantalone e felmetta, è troppo carino, comunque ragazzi guardate un po' che bella pelle che ho c'è ultimamente una pelle favolosa, merito anche dei prodotti che sto utilizzando e infatti guardate, cioè praticamente c'è una pelle stupenda, mai avuta così praticamente da quando uso i prodotti di cui vi ho fatto il video contro brufoli e punti neri che insomma ve lo metto nelle schede qua, vi ho fatto questo video dei prodotti che uso io che mi fanno una bella pelle, non solo contro brufoli e punti neri ma proprio anche i pori dilatati le macchie della pelle, cioè la pelle diventa più bella e senza imperfezioni con quei prodotti è molto luminosa, cioè questo mi permette di poter andare in giro anche senza trucco, comunque è una cosa bellissima, comunque vi ho fatto il video quindi andatelo a vedere e vi ho mostrato tutti tutti i prodotti che sto utilizzando della mia skin care, ho anche tolto il ciclo da pochi giorni, cioè tipo ieri quindi alla fine sto anche nel periodo in cui praticamente ho più impurità, più brufoli eccetera e c'ho una bella pelle, quindi top, sono troppo felice ho dato la pappa ai cani e adesso devo uscire, devo andare a Caritas Shop ovviamente in negozio Ciccia, la mia piccolina, dove vai amore? Ciao vai tu, ne va, le ho messo il vestitino, vero amore? E adesso ce ne amo, ce ne amo, no dove stanno quegli altri due? Ho dato la pappa a tutti, dove vai? Molly, ciao, che bello me la ricordate Molly quando stava dietro i miei video? sono stata felicissima di dormire qua perché praticamente ho dormito con tutti i miei cani e stamattina mi hanno fatto un sacco di feste che belli mi amore, Ciccia ci manca Cucchi, dov'è? è scappato eccola la Nelzi, ciao Nelzi, come sei sconvolta scusate, dopo un viaggio un po' lungo eh, Roma-Napoli io intanto mangio eh, c'è anche David che, mia sorella in realtà non è fidanzata con David è fidanzata con Michele Bravio guarda, c'ha la voce identica è vero, tutti lo dicono parla? eh, la bocca a me la bocca a me comunque mi piace il nostro apparello? con tante buste del Caritas Shop sotto, guarda come l'abbiamo mangiato questo? questo si chiama Natalone ma come c'è? la somiglia a me, guarda, con la mia maglia per me però lei non ce l'ha la stila scadente non so, c'ha il fiore ascetta, non posso riprendere lui ma lui sì, che mangia ovviamente sempre e comunque bravo, amore mia e c'è anche Pupi dietro comunque ragazze David, David comunque ragazze andate a vedere il vlog di Nancy che ho fatto tanti regali a mia sorella e ora li apro e li aprirà nel suo vlog è giornatale ragazzi buon appetito che bello con l'albero dietro e qua ho fatto prosciutto e soprattutto mozzarella ragazzi questa è la la zizzona la zizzona non c'è la zizzona vera mozzarella di bufala campana con prosciutto e pane per un piccolo antipasto che poi stasera andremo a mangiare fuori vero amore pure alla porta pure alla porta è Nancy vlog andate a vedere anche il vlog di Nancy perché c'è David si mostrerà ciao ragazzi guardate qua giusto per mantenerci leggeri metto le patatine davanti a David le patatine, gusto, salame e finocchietto che volano Lenzi tu le vuoi? sì sono curiosissima di provarle dai mangiamole Lenzi assaggio in diretta vai tu che mangia? avevamo iniziato col fit and light prosciutto ma quando? quando mai è stato fin? all'improvviso cioccolato patatine non si capisci che niente vai assaggio in diretta come sono? le patate con salame no davvero sono curiosa assaggio sta di finocchietto pure è buona guarda c'è quello che sta no vabbè non suoi perché ste patatine provale c'è salame con cioccolato in bocca sanno di salame è vero sono troppo buone top ragazzi eccomi pronta allora Dario si è avviato al negozio Lenzi e David sono avviati al negozio perché dobbiamo lavorare a carità shop online quindi dobbiamo lavorare al sito un po' al magazzino quindi anche se loro sono qua è festa ma comunque dobbiamo lavorare sulle labbra ho messo la nuova tinta questa qua di Nabla Broadway perché so già che me lo chiederete queste le stiamo vendendo in tantissime veramente sullo shop online mi stanno piacendo tanto le nuove tinte labbra di Nabla comunque guardate su caritashop.com nella sezione rossetti ci sono anche tanti rossetti bellissimi di Alchemilla che ragazze provate i rossetti di Alchemilla perché sono veramente buoni e hanno un ottimo inci sono completamente naturali e biologici e io anche le utilizzo ragazzi siamo a happy New Year siamo a cena siamo a cena abbiamo ordinato tante cose super porcellose patatine, pizze e panini guardate la mente sono porcellose giustamente sta arrivando comunque c'è anche Nancy c'è anche David c'è Nancy e c'è David ah la mano siamo l'ora di mangiare siamo super a favore anche Nancy sta vloggando e David si sta incazzando perché vorrebbe mangiare anche io sto bloccando pazzarotti questi che sono? di pollo piccato le patatine mie normali dove stanno? ma no le patatine mie normali patatine ma noi non so le mie maron bomba tutti a Nancy patatine per me che hai detto amore? c'è un bel sacco di cose cosa? c'è un bel sacco di cose sì e che cosa? eeeh il 25 ti apri il regalo ah e ma che cosa? si può sapere più o meno e come faccio non ti posso dire perché mi dico dimmi il mio regalo no ma sono cose belle bellissime no? bella amore ma c'è un sacco di soldi amore ci compra tutto il mondo se tieni un sacco di soldi mi amore ci compra tutto il mondo che bello amore ma io non voglio niente ma questo è il primo anno allora mi amore ho fatto questo anche questo da che avevo detto? amore sono andato a rubare per farmi il regalo è quasi vabbè basta il pensiero amore è bella amore mi dice ma no come fai? si ti ho visto tutte le cose che ti piacciono quest'anno si ma è normale mi hai fatto tutte le cose che mi piacciono ma è normale vabbè ragazzi guardate che belle cose ha comprato Dario l'ho mandato a prendere tutte le cose verdure spesa detox tanti finocchi che adesso ci vado a togliere il gambo prima di metterle in frigo perché occupano spazio li pulisco anche un po' poi le noci queste sono buonissime amore ma sono fresche queste noci? si che bello poi le cipolle pre natalizie pre natalizie le arance che mi ha dato Pachito queste sono del nostro aberello poi tantissimi limoni perché noi come sapete bevamo tanti limoni che sono detox ci piace molto bere il limone e anche metterlo sul cibo ovviamente poi il prezzemolo c'è anche il basilico amore? si che bello mi piace tanto il basilico poi la rucola poi qua abbiamo ancora un po' di castagne che adesso consumeremo che c'è? l'euro 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 non l'euro l'euro va bene che bella spesa ha fatto il mio amore ragazzi stasera vegan scherzo ovviamente e non è assolutamente vegan il video vegan l'ho fatto sul mio secondo canale stasera invece si mangia una bistecca non la mangiamo mai vero amore che non la mangiamo mai però ogni tanto ci viene lo spiripizzo ce la facciamo fare dal nostro macellaio di fiducia super genuina vero amore? è troppo buona ragazzi secondo te qual è la mia? secondo voi adesso qual è la mia? quale che lei deve dare a me? questa è piccolina e questa è grande con un bell'osso quindi qua c'è scritto Carlita e qua c'è scritto Dario ah 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 comunque non vuoi tipo cadere la telecamera no dai scherzo qua ho fatto prima le bruschettine di pane integrale l'ho tutto tostato sempre in piastra prima di fare la carne e poi qua ho preparato la rucolenta adesso ci metto anche le scaglie di parmigiano e poi qua ho preparato l'insalatina sempre verde che non può mai mancare ci ho messo anche un po' di cipollina giusto così per appesantirci l'alito e ho preparato cioè Dario ha preparato il condimento per le bruschette con l'olio evo pomodorini e il basilico sale e un po' di origano e sul pane ho strofinato un po' d'aglio quindi tra aglio e cipolla stasera proprio ci sciateremo in faccia che bella cenetta ha fatto la meura bella vero amore guarda che bella è super invitante ovviamente la super biscotta e besteccona me la sorpresa io qua ci vuole sì bravo amore un filo di aceto balsamico due bruschettini e pomodorino e un altro po' di pane per accompagnare il tutto tre bruschettine besteccona la rucola e la insalata buon appetito amore buon appetito non mi devo consolare vicino a questo osso ragazzi adesso Dario appena che ha finito di mangiare il pane vi dirà come si fanno le castagne nel microonde perché so che è una cosa che vi può interessare ve l'abbiamo scoperto di recente è una figata si deve prendere una tazza e si deve prendere una tazza amore ma devi prima ingoiare prima si mettono le castagne a bagno in acqua fredda quanto tempo? dieci minuti dieci minuti e un quarto d'ora ok poi in una tazza si mette la mette al centro ah la tazza vuota al centro è vuota e diciamo no con le castagne nella tazza e poi le castagne si mettono tutte sul piatto attorno alla tazza ok quanto tempo? dieci minuti ok vediamo vediamo se funziona raga noi già abbiamo fatto la prova prima funziona qua c'è anche i pupi che aspetta tutto ha fame amore sono venuti amore stupende va va wow ah si sono aperte ecco wow non vedo l'ora di mangiarla che bravo abbiamo messo le castagne in un canovaccio adesso apriamole caldo caldo è molto caldo tutto io no anche io amore no tu no sei cattiva sono bellissime raga è super buono questo metodo guarda che belle miumi miami buona guarda lei riprende il mio panico mano mano in alto ma che è? assalto e si conclude giusto perché siamo a dieta e si conclude e allora come è? siamo proprio tutti proprio a dieta yeee buonanotte salutino buonanotte buonanotte prima dormiva solo col cuscino adesso dormo abbracciando il cuscino e anche pupi troppo terreno il mio amore buonanotte abbiamo passato una serata stupenda ci vediamo domani con un altro vlog ciao buonanotte amore buonanotte guardate che belli sono pupi guardate come dormono il mio amore tutti accartocciati buonanotte a tutti buonanotte a tutti buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.